Musica 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 Al quarto posto troviamo The Creeper 25 con questo shot dopo un bel combattimento che si è fatto all'interno di Zone 85 non so però dove fosse se Bad Lion è MC Gamer Musica Al terzo posto troviamo Fraspy 29 con questo shot imparsi a 22 dopo questo combattimento è veramente bravo Musica Al terzo posto troviamo Super Simon con questo shot contro questo team da due se non sbaglio da questo che ho capito io forse vabbè era comunque due shot che si è fatto Musica Al primo posto veramente complimenti il tuo canale lo troverai nella descrizione troviamo Mirkots con questo shot con questo doppio shot che si è fatto su Holy Day Resort Ed ha battuto questo team ed è stato veramente bravo complimenti Musica 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 Vi ringrazio quindi per la visione e vi ricordo di già come avevo detto per partecipare l'email nella descrizione In via delle clip è meglio se me le caricate in su youtube e non elencato in pubblica decidete voi come fare poi me le scarico io Alcune clip c'è sempre dei problemi che merita a buggare sony vegas e quindi per questo alcune clip non riesco a farle partecipare anche se avrebbero comunque guadagnato qualche posto Quindi il canale di Mirkots lo trovate nella descrizione se siete interessati andatelo a seguire da Retail Black è tutto ci vediamo domani con il prossimo video bella Musica